Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi è il 24 ottobre, quindi finalmente possiamo parlarvi delle nuove CPU Intel Core Ultra Serie 200. Per chi non dovesse sapere di che cosa sto parlando, Intel ha abbandonato la nomenclatura i3, i5, i7, i9 in favore della nomenclatura Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 e quindi il top di gamma di quest'anno sarà l'Intel Core Ultra 9 285K, che è quello che sono andato a utilizzare nei test di questo video. Ci tengo anche a precisare che all'interno di questo video vedete solo confrontato l'Ultra 9 285K con il 14900K, il 7950X e il 9950X. Nessuna versione X3D, quindi decisamente uno svantaggio per quanto riguarda AMD all'interno dei test di gioco. Nel caso fossi interessati solo a quello, sono sicuro che nel canale di Mordentech o Prodigy, che potrete trovare tutti i test che vi interessano, oggi sono qui più che altro per raccontarvi qual è stata la mia esperienza con questa nuova piattaforma. Perché effettivamente sì, si parla di una nuova piattaforma, nuove schede madri, nuovo supporto per tutto. Come nuove schede madri abbiamo la serie 800, quindi 860 e 890. In questo caso ci sono andato a utilizzare per i test una Z890A Gaming Strix di Asus. A livello fisico non ci sono grandissime novità rispetto alla generazione precedente, ma una chicca che mi è piaciuta parecchio è lo sgancio rapido per quanto riguarda la dissipazione dell'SSD. Veramente molto comoda, oltre allo sgancio rapido per l'SSD in sé, da quest'anno vediamo anche lo sgancio rapido proprio direttamente per il dissipatore, che ci rende molto più veloce sia manutenzione ma anche proprio l'installazione vera e propria, senza l'utilizzo di cacciaviti. Nuove schede madri e nuovo socket LGA1851. Quindi le schede madri che abbiamo utilizzato fino ad ora con serie 12, 13 e 14 non vanno più bene, fate attenzione. Per quanto riguarda le altre componenti utilizzate, sono state un dissipatore da 360 mm di Asus, l'LC3 360. La scheda video è una 4090 founders di Nvidia per eliminare ogni possibile bottleneck da parte della scheda video. E infine le RAM variano da 4800 MHz fino a 7200, per vedere se effettivamente in questo caso ci fosse stata differenza, visto che nelle vecchie generazioni Intel diciamo che non ha mai guadagnato troppo per quanto riguarda la RAM. Iniziamo con la mia esperienza, che è stata un po' altalenante. Diciamo che i primi test sono stati abbastanza disastrosi, partendo dal fatto che non riuscivamo ad avere un'uscita video, se non dalla scheda video integrata, fino a quando non abbiamo avuto un aggiornamento del BIOS, che ha portato anche dei miglioramenti all'interno proprio delle performance. Cosa molto molto positiva, finalmente, finalmente, all'interno della scheda madre è presente il profilo stock di Intel, che è stato un problema grandissimo, tra virgolette, per quanto riguardava i test in generale, che venivano effettuati soprattutto al lancio, soprattutto su con schede madri o Asus, perché andavano a effettuare un overclock, o utilizzavano dei profili di overclock di base, che andavano a falsare i risultati. Alcuni magari non li erano stabili, alcuni avevano temperature troppo alte. In questo caso, con il profilo stock, presente direttamente all'interno della scheda madre, abbiamo avuto dei risultati ottimali, e in linea con quelli proposti da Intel. I test prima dell'aggiornamento, diciamo che erano andati abbastanza male, quasi terribili. In tutti i test performavano peggio rispetto alla serie 14, e dopo l'aggiornamento del BIOS ho deciso di effettuare una cancellazione completa, nuova installazione, nuovi driver, nuovo tutto quanto, e finalmente ho iniziato a vedere delle ottime performance, in alcuni casi addirittura sorprendenti. Numeri che però sono un po' confusionari. Ne ho discusso anche con Ale di Mordentech, e effettivamente non siamo ancora giunti a una conclusione vera e propria. In alcuni test sembra performare incredibile, in altri invece va peggio. Come potete vedere dai risultati dei benchmark, sia nel gaming ma anche nella produttività in generale, offrono un pacchetto che è comunque comparabile con la vecchia generazione e anche con quella di AMD attuale. Quindi a mio parere penso sia ancora un fatto di ottimizzazione, soprattutto all'interno dei giochi, perché in alcuni funziona anche meglio rispetto alla 14esima generazione, in altri invece funziona peggio. Diciamo che principalmente sui giochi vecchi funzionano meglio, sui giochi nuovi attualmente ancora peggio. In ogni caso comunque per l'utilizzo che ne faccio principalmente io, per il tipo di giochi che utilizzo io e programmi che uso io, diciamo che potrebbe essere un buon upgrade. Ovviamente sono in pochi quelli che hanno la necessità di effettuare un cambio generazione di generazione, dipende sempre dal tipo di utilizzo. Se parliamo di solo gaming, X3D in generale, DMD, sia serie 8000, ma anche i futuri che vedremo tra poco, 9000 X3D, probabilmente rimarranno il top di gamma per chi vuole il massimo delle prestazioni. C'è da dire una cosa però che in tanti continuano a ignorare. Per quanto si effettivamente riescano a offrire le migliori prestazioni possibili, secondo me non sono adatti a tutti, perché per ottenere quel tipo di risultati serve molta ottimizzazione, ovvero serve la RAM adatta, serve la GPU adatta, servono le impostazioni adatte, serve l'alimentatore, servono tante cose adatte per farli funzionare al meglio, altrimenti si lasciano delle performance lì nel cassetto. In tanti casi mi è capitato che alcuni si lamentassero di aver comprato tutto X3D eccetera, tutto al massimo e poi non riuscivano ad avere le performance che volevano e gente con magari CPU anche di un paio di anni fa otteneva dei risultati migliori. Questo in generale perché la piattaforma di Intel diciamo che è sempre andata un po' bene con tutto, quindi qualsiasi RAM gli mettessi, qualsiasi cosa gli mettessi, diciamo che se ne fregava un pochino e quindi performava più o meno uguale con tutto. E infatti anche andando a investire su RAM ad altissime frequenze, timing bassi eccetera, i miglioramenti diciamo che non erano fenomenali. Con AMD invece la differenza tra un sistema non ottimizzato e un sistema ottimizzato poteva variare anche del 10-20%, quindi è veramente tanta tanta tanta. Se non siete degli smanettoni o non avete qualcuno che vi può aiutare da quel punto di vista, è più probabile che con una configurazione Intel abbiate una vita più semplice. Diciamo che in ogni caso, andando a effettuare una configurazione oggi con CPU e GPU di nuova generazione, è difficile cadere male perché comunque performano tutte molto molto bene. Quindi a mio parere non è un grosso problema. Cosa molto interessante, al contrario delle vecchie generazioni, queste nuove CPU dipendono parecchio dalla frequenza delle RAM. Infatti utilizzando delle RAM a frequenza base a 4800 MHz rispetto a delle RAM a 7200 MHz, fino addirittura al 12% in media, quindi non poco. Non in tutti gli ambiti, ma queste CPU diciamo che guadagnano decisamente da una frequenza più alta delle RAM. Parlando sempre con Ale, però abbiamo scoperto che con una frequenza ancora superiore in realtà si stabilizza, addirittura tornano ad essere inferiori le prestazioni. Quindi avendo potuto testare un solo kit, non sappiamo se effettivamente questo è dovuto dal kit in sé oppure dalla frequenza effettiva, o magari da un aggiornamento che andrà a fixare questo piccolo problema. In ogni caso, se qualcuno di voi stesse pensando di effettuare una nuova configurazione con queste nuove CPU Intel, fate maggiore attenzione al kit di RAM che state utilizzando e in questo caso, per quanto riguarda la frequenza, in questo caso vi consiglio un kit da 7200 MHz per avere il miglior rapporto prezzo prestazioni. Parliamo infine ora di temperature e consumi. Come si sono comportati? A mio parere molto molto bene. Sarà per il profilo Intel stock, sarà per ottimizzazione, sarà per quello che vuoi, ma ho visto nel mio caso un ottimo ottimo miglioramento di consumi, visto che a pieno carico, con piene performance, pieno tutto, il consumo massimo della CPU è stato di circa 190 Watt. Ho provato anche con i profili extreme, eccetera, non ha superato i 215, ma performance piene. Decisamente un miglioramento contro i 253 della versione precedente e più o meno in linea con la serie 9000 DMD. Per quanto riguarda le temperature, invece, ottime. Con il 360 mm che ho utilizzato, 75 gradi, picco massimo, mai salito di un grado in più, veramente, ventole al minimo, super super stabile. Davvero, da questo punto di vista, ottimo lavoro. mi sento di consigliare questa nuova piattaforma? La risposta è sì e no, dipende. Diciamo che le performance sono buone, ma secondo me c'è ancora un filo di ottimizzazione da fare, quindi magari aspetterei un attimo che tutti i piccoli problemini vengano risolti e quindi si riesca a vedere a pieno le performance di queste nuove CPU. Attualmente, comunque, sia la serie 14000 di Intel che entrambe le generazioni 7000 e 9000 DMD sono un'ottima, ottima opzione e soprattutto si riescono a fare delle configurazioni con dei prezzi decisamente buoni. Sia schede madri che CPU al lancio avranno ovviamente dei prezzi un po' più alti, in questo caso con la nuova generazione, quindi aspettiamo un secondo, secondo me, che si stabilizzi il tutto e poi testiamo. Quindi, sono davvero curioso di sapere voi che cosa ne pensate, fatemelo sapere con un bel commento qui sotto. Nel corso dei prossimi video arriveranno un paio di cose interessanti e dei progetti a cui sto lavorando, tipo questo, che ho portato avanti in live su Twitch, ma vedrete a breve, che può essere probabilmente interessante per molti di voi. Sto anche testando il nuovo 480 Hz di Asus, ci sono diverse cose che sto cercando di portare avanti, quindi non perdetevi i prossimi video. La Blink è tutto e ci vediamo. Nel prossimo video. Ciao ciao!